Dopo Ramziaia e la volta di Simone Auriletto nel nostro paggelone social, il difensore Scuola Torino nella stagione appena concluso ha collezionato 30 presenze per un totale di 2034 minuti giocati. All'attivo anche un gol realizzato contro il Giuliano nel match di ritorno terminato con risultato di 4-2. Non credo che quando è stato preso si pensasse di affidargli il reparto in condivisione con un altro inesperto. È vero che ha commesso tanti errori, frutto di inesperienza ma non solo. Inizialmente sembrava un buon giocatore, col passare il tempo si è confermato un buon giocatore per una squadra di bassa classifica con un ambiente senza particolari pressioni, non certo adatto per i canoni dell'Avelino. Voto 4,5. Si è sempre impegnato, commettendo però errori gravi. Doveva essere un rincalzo, si è ritrovato titolare e non si è rivelato all'altezza. Si è ritrovato titolare per necessità, quando doveva partire dalla panchina e guadagnarsi il campo per gradi. In una situazione difficile probabilmente ha dato il massimo che poteva dare. Accordo biennale per il difensore con un passato da Provercelli. Il futuro è incerto, ma per i tifosi non merita la riconferma. Voto 4,5. Dopo a riletto è la volta di Lorenzo Moretti. Oggi parte il pagelone social relativo al difensore Scuola Inter. Se vuoi cercherò insieme al cardino di Lorenzo Moretti. Grazie.